Teleradio Stereo 92.7 E' più sveglio di tutti, la mette dentro Il palo ribatte, ma arriva Edoardo Bove E la mette in porta Roma 1, 1 di reso 0 Mamma mia Belotti si propone a sinistra Esciarabu, Belotti dentro Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo No! Lorenzo! No! Lorenzo! No! Lorenzo! E' giallo Lorenzo! Lorenzo Pellegrini Sottomisura Batte Silvestri Roma 2 Udinese 0 Prima conto azione In questo campionato Del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini Roma 2 Udinese 0 Fischia l'arbitro Parte Roberto Pereira Rui! 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 Una vita che non vedevamo Un rigore parato importante Rui! 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 Come l'ha presa bene L'ha quasi bloccata Come l'ha presa bene Tiro di Pereira Matic A sinistra per Spinazzola Può attaccare Spina Spinazzola uno contro uno con Becao Palla sul destro Cross TAMMY! TAMMY! E andiamo TAMMY! TAMMY! E andiamo TAMMY! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! TAMMY Abram è la serata perfetta dopo Pellegrini ritrova il gol anche Tammy Abraham colpo di testa perfetto palla sotto la traversa Roma 3 Udinese 0 la festa è completa segna anche Tammy Abraham